Risotto con asparagi e scamorza Prepara questo gustoso risotto con asparagi e scamorza, un piatto unico che metterà d'accordo tutti i commensali. La presenza della scamorza affumicata conferisce al risotto un gusto delicato e intenso allo stesso tempo. Il risotto con asparagi è un classico della cucina italiana ed è una ricetta semplice e veloce da realizzare che piacerà a grandi e piccini. Seguite i nostri consigli e create un piatto unico per una cena in famiglia o un pranzo con gli amici. Per preparare il risotto con asparagi e scamorza inizia dalla preparazione degli ingredienti. Per questa ricetta avrai bisogno di 400 g di riso a grana medio-lunga, 200 g di asparagi, 200 g di scamorza affumicata, un scalogno, 2 litri di brodo vegetale, un mezzo bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale, pepe, parmigiano reggiano grattugiato. Prepara gli asparagi, lava i gambi e falli cuocere in acqua bollente salata per circa 7 a 8 minuti. Scolali e tagliali a pezzetti. Trita finemente lo scalogno e fallo stufare in una casseruola con un filo d'olio extravergine di oliva. Aggiungi il riso e fai tostare per qualche minuto. Sfuma con il vino bianco e lascialo evaporare. Versa un mestolo di brodo caldo e cuoci il risotto mescolando di tanto in tanto. Aggiungi gli asparagi e continua la cottura, versando il brodo mano a mano che il risotto assorbe il liquido. Quando il risotto è cotto, spegni il fuoco e manteca con olio, parmigiano reggiano grattugiato, sale e pepe. Servi il risotto con asparagi e scamorza affumicata caldissimo. Sfuma con asparagi e scamorza affumicata caldissimo.